Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono OnStageTV e oggi ragazzi Andiamo a comandare Andiamo a comandare Pazza da parte, bella a tutti ragazzi, adesso Perché il titolo, chiudiamo sta roba qua, allora perché il titolo si chiama Andiamo a comandare E facciamo un sesso anale, perché praticamente ragazzi ci aumenta un bordello di progetti Allora ragazzi, mentre voi starete vedendo questo video, io sto in piscina e quindi faccio un video quando sto in piscina Poi il 20 io parto, vado in Abruzzo e là che sarà il video, quando l'ho fatto stavo per i 100 iscritti In un anno ho fatto 81 iscritti Gabbo di scuola ne fa 300-400 al giorno Meglio se faccio 2 iscritti a me se mi sento 4 Vita di merda Come se dice Sti cazzi Mi sentivo 4, dovevo fare Ma veramente volevo fare i video E volevo proprio fare, 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 fare Però veramente c'avevo pure problemi personali che non voglio trattare ragazzi perché lasciamo stare Però non è una cazzata Regà, se beccamo Andiamo a comandare Con l'Xbox in tangenziale Andiamo a comandare Con un seggdv che intanto fa cadare come il suo cane Bello Ok Grazie a tutti.